Punto Regione, aggiornamenti e novità dal Friuli Venezia Giulia con il Governatore della Regione, Massimiliano Fedriga. Ben ritrovati nel nostro appuntamento con Punto in Regione e anche oggi ci ritroviamo con il Governatore Massimiliano Fedriga per fare il punto della situazione e vedere anche tutte le novità del momento. Intanto buongiorno e ben ritrovato Presidente. Buongiorno a voi e come sempre grazie dell'invito. Allora Presidente iniziamo insomma un po' dalle novità del momento, come sta andando intanto in Regione questa prima settimana gialla e anche qualche impressione un po' su questa gestione a colori, sulla situazione dei trasporti e anche della scuola che ha avuto un po' di una partenza con un ingresso aumentato per le superiori e una situazione che va tenuta sempre sotto controllo naturalmente e questa settimana la intervistiamo anche nel nuovo ruolo di Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome. Congratulazioni per questo traguardo insomma che sicuramente dimostra che fino ad adesso ho fatto un buon lavoro. Grazie, no grazie ovviamente spero di fare bene questo incarico che mi hanno voluto dare tutti i colleghi Presidenti delle Regioni italiane. Stiamo cercando ovviamente di andare avanti penso con una prospettiva positiva come quella che c'era prima che io diventassi Presidente, ovvero quella di tenere unite le Regioni con un post di buon senso, di equilibrio unitario a livello nazionale, perché penso che in questo momento di difficoltà pandemica ed economica le istituzioni debbano essere unite e penso che le Regioni stiano dimostrando questo, indipendentemente dal colore politico, indipendentemente dalla collocazione geografica, stanno trovando la sintesi senza litigi, senza baruffe, ma con la voglia di fare delle proposte utili ai cittadini e al Paese. Per quanto riguarda invece la situazione contingente della zona gialla che oggi vive il nostro territorio e l'apertura delle scuole, sono contento ovviamente che si vada verso una stagione di riaperture, penso che sia necessario continuare comunque tutti noi a utilizzare l'attenzione dovuta per evitare la diffusione del virus, non siamo usciti dalla pandemia anzi, quindi massima attenzione, come per esempio sulle scuole, purtroppo i segnali che abbiamo per quanto riguarda i contagi della fascia di età della popolazione scolastica sono in aumento, quella ovviamente con la riapertura delle scuole conoscevamo il rischio, abbiamo sottolineato anche come Regioni le criticità, oltretutto a poco più di un mese dalla fine dell'anno scolastico, di fare passi troppo lunghi in questo settore, ci auguriamo ovviamente noi stiamo facendo tutta l'attività di testing, di isolamento dei positivi, però è chiaro che è l'unica fascia di popolazione dove vediamo un aumento di contagi, tutto il resto abbiamo una diminuzione, fortunatamente abbiamo un miglioramento importante a livello generale dei contagi, a livello regionale, abbiamo una diminuzione delle ospedalizzazioni, una diminuzione delle terapie intensive costante in queste ultime settimane, ovviamente con i vaccini, qui dopo magari ne parliamo, e con la stagione calda, mi auguro appunto questo trend positivo possa continuare. Certamente, insomma ha parlato di vaccini, tornando un attimo sulla scuola, so che molti genitori ci hanno scritto un po' preoccupati, anche perché per molti rappresentava il ritorno anche al lavoro, e la gestione delle quarantene adesso è diventata anche un po' più complessa per quanto riguarda proprio la scuola, parlo soprattutto anche delle scuole superiori, che hanno aumentato la presenza. Infatti proprio noi abbiamo il maggior aumento tra la fascia di popolazione tra 14 e 18 anni, quindi è chiaro che capisco i disagi delle famiglie, purtroppo però la situazione è questa, noi dobbiamo mettere in sicurezza ovviamente contro la diffusione del virus, voi sapete la posizione che ha tenuto Regione Friuli Venezia Giulia, sapendo l'importanza che ha la scuola in presenza non c'è dubbio, ma anche tenere in piedi tutto un sistema che deve comprendere la scuola, tutte le altre attività economiche e lavorative, e soprattutto la sicurezza nella scuola per le famiglie dei ragazzi che vanno a scuola. Quindi su questo l'equilibrio è fondamentale, ribedisco c'è chi porta avanti battaglie a prescindere, scuola aperta a tutti i costi, al 100%, rischia di fare un danno alla scuola, paura invece con favore al mondo scolastico. Certamente, so che anche di questo ne avete parlato, insomma c'è un range di percentuali di rientro, quindi si cerca di poter fare un passaggio il più graduale possibile al momento. Abbiamo parlato di vaccini, oggi le vaccinazioni sono aperte anche per tutti gli under 60 con delle fragilità, quindi sono interessate più o meno 77 mila persone, la campagna sta procedendo, quali sono anche poi, ricordiamo, le strategie future, perché si va mano a mano e gradualmente ovviamente a un'apertura sempre più ampia per fasce d'età. E come sta procedendo anche la campagna in Friuli Venezia Giulia? Allora, noi oggi abbiamo disponibilità di vaccini, seppur non enorme, per capirci noi allo stato attuale non riusciamo ad avere vaccini sufficienti per farne 10 mila al giorno, riusciremo a farlo organizzativamente, anzi, secondo le nostre stime, con il coinvolgimento oltretutto di nuovi soggetti, potremmo addirittura sfiorare le 17 mila dosi al giorno. Poi i vaccini non sono sufficienti per arrivare a queste quantità così importanti, ci auguriamo ovviamente con il lavoro importante che sta facendo il commissario Figliuolo, che ha dato veramente un cambio di marcia alla struttura commissariale, possono aumentare da qui alle prossime settimane, allo stato attuale però la fotografia è quella. Però c'è un altro problema e questo veramente coinvolge tutti, l'adesione alla campagna vaccinale, c'è una buona parte per esempio degli over 60 che non ha aderito alla campagna vaccinale e quindi gli sforzi che stiamo facendo per mettere in campo tutta un'organizzazione, capite quanto è complicata con i punti vaccinali, gli abvaccinali, i personali, i volontari, l'organizzazione dei vaccini per il trasporto, per la somministrazione, è estremamente complicato. L'abbiamo fatta e penso anche bene con una potenzialità che va ben oltre alle disponibilità di vaccini. La struttura commissariale sta facendo lo sforzo per appunto avere sempre più vaccini, per poter nucleare le persone, ma è chiaro che poi se manca chi si fa vaccinare la situazione rimane bloccata e rischiamo di fare un danno enorme alla salute, all'economia e al lavoro della nostra comunità. Per questo noi abbiamo anticipato l'apertura agli under 60 che dalle 12 di oggi già possono prenotare e già alcuni di questi, che ovviamente si prenoterà per prima, può essere vaccinato già nella giornata di domani, cioè già dal primo maggio uno può essere vaccinato, quindi abbiamo cercato di velocizzare il più possibile. È chiaro però che le categorie che già possono aderire alla campagna vaccinale, se non lo fanno, diventa un problema, diventa un problema, quindi l'appello che faccio è che tutti, io appena potrò, lo dico chiaramente, appena la mia fascia sarà incompresa, io andrò a prenotarmi per vaccinarmi il prima possibile. Facciamolo tutti, cerchiamo tutti di aderire alla campagna, altrimenti rischiamo di, ribadisco, di avere tutte le armi pronte, ma dopo non colpire il bersaglio che è il virus, perché se tutti non facciamo la nostra parte diventa estremamente difficile. Le persone quindi che oggi possono prenotarlo, io mi invito a farlo, ci sono tantissimi strumenti per farlo, si può fare tramite il numero dedicato, lo si può fare nelle farmacie, lo si può fare nel CUP, lo si può fare tramite web app, che si trova oltretutto su sito della regione in link, è facilissimo, io ho già provato a testarlo, vedere come funziona, è molto molto semplice anche tramite web app, e da oggi alle 12, le persone che lei ha citato prima, cioè i fragili sotto i 60 anni, possono accedere al vaccino, avranno il vaccino Pfizer in questo caso, perché sono under 60 o moderna, e quindi vaccino mRNA, se si prenotano, in tempi molto rapidi potranno accedere, sono persone per esempio con il diabete, persone con patologie oncologiche, c'è tutto l'elenco, anche questo sul sito della regione, con l'autocertificazione, con quella patologia, uno può prenotare, andare a prendere la prima dose di vaccino, e dopo i giorni necessari, rispetto al vaccino che viene dato, si può fare la seconda, quindi veramente stiamo accelerando moltissimo, e dobbiamo mettercela tutta, tutti, tutta. Giustamente insomma anche, parlava prima anche della categoria, degli over 60, insomma che mancava ancora l'appello delle vaccinazioni, ricordiamo perché c'era scritto anche qualche ascoltatore, che si è trovato bene, perché appunto è andato a fare il vaccino, e comunque c'è un triage di accoglienza, dove ognuno può insomma esprimere le sue perplessità, e avere tutte le risposte del momento. Io tengo a dire che a mia mamma, che era nella categoria, compresa tra i 70 e gli 80 anni, ha fatto AstraZeneca, l'ho accompagnato io, ha funzionato molto bene, oltretutto non ha avuto alcun effetto collaterale, della prima dose, cioè non dobbiamo aver paura, rispetto a una narrazione, che è venuta fuori, in qualche diciamo fantasioso, fantasioso blog, fantasioso social, così, perché i rischi che ci sono con i vaccini, sono decisamente inferiori rispetto ai vantaggi stessi, e abbiamo delle medicine, che prendiamo quotidianamente all'interno delle nostre abitazioni, che hanno effetti collaterali peggiori dei vaccini, adesso se qua ci fossilizziamo, con la paura, l'effetto collaterale, dobbiamo incominciare a dare paura, ad andare in macchina, perché qualcuno ci può venire addosso, a camminare per strada, perché un mattone ci può cadere da qualche palazzo, cioè questi sono gli ordini di grandezza, sono bassissime le percentuali di rischi collaterali avversi gravi, sono bassissime, non c'è veramente motivo di avere paura, bisogna avere paura invece di contrarre il virus, magari in una forma grave, o di contrarlo e magari contagiare una persona più in difficoltà, che rischia l'ospedalizzazione, in alcuni casi che purtroppo non sono così pochi, addirittura la morte, quindi su questo dobbiamo assolutamente essere chiari, io per capirci, sui dati di questa mattina, sull'adesione tra i 60 e i 69 anni, quindi quei 10 anni lì, mancano all'appello quasi il 40% delle persone che avrebbero diritto, ed è un problema, ne mancano il 25% tra i 70 e i 79 anni, e quindi su questo dobbiamo impegnarci molto per cercare di raggiungere l'adesione più, ma se c'è possibile anche un altro 25% tra gli 80 e gli 89 anni, e addirittura tra i più di 90 anni manca quasi il 50% di adesione. Noi abbiamo come regione una percentuale elevatissima di vaccinati, rispetto a chi ha fatto richiesta di vaccino, abbiamo vaccinato già oggi, vi sto leggendo i dati più aggiornati, come over 80 il 97,7%, di fatto tutti quelli che hanno chiesto la vaccinazione l'hanno ricevuta, quindi abbiamo veramente una capacità molto importante come organizzazione regionale, è importante quindi che tutti aderiscono alla campagna e possano il prima possibile cercare di arrivare a una situazione nella quale la nostra comunità è protetta. Cerchiamo sempre di ripetere che le informazioni scientifiche e mediche dovrebbero essere reperite da fonti attendibili, purtroppo questa titubanza si è largata soprattutto in quella fascia tra i 60 e i 69, anche noi abbiamo riscontrato qualche perplessità, ma in realtà anche molte testimonianze di chi si è andato a vaccinare ha avuto non solo tutte le risposte, le domande, le perplessità che poteva avere come dicevamo nella zona pre-vaccinazione, nel triage e poi insomma ha potuto proseguire tranquillamente senza nessun problema, quindi insomma meglio avere fiducia nella scienza in questo caso. Tornando proprio, restando legati un po' al tema delle vaccinazioni, ma parlando anche di futuro e di ripresa economica per la nostra regione, regione che come sappiamo dipende moltissimo anche dai paesi vicini, dall'Austria e da Slovenia, quest'oggi sappiamo che il Parlamento europeo ha anche votato a favore, 540 voti favorevoli e 119 i contrari, a questo Green Pass per assicurare maggiore libertà di spostamento nei confini dell'Unione Europea, che dovrebbe essere un passaggio importante per il comparto turistico e che riguarda appunto l'eventuale certificato per poter circolare se si è avuto la vaccinazione, se si è fatto un tampone negativo oppure se si è già avuto il Covid nei sei mesi precedenti. Che cosa ne pensa Presidente per la nostra regione? Beh intanto questo incentiva appunto a partecipare ancora di più alla campagna vaccinale. Chi si vaccina potrà avere questo Green Pass, quindi potrà girare più liberamente. In secondo luogo dovremo vedere dopo invece tecnicamente come si attuerà questo Green Pass, capire l'utilità dello stesso, se serve ovviamente ad attrarre per esempio per quanto riguarda il nostro paese, la nostra regione, turisti ben venga, ovviamente devono essere regole chiare e che tutti possono accedervi, perché altrimenti rischiamo di creare delle discriminazioni fra cittadino e cittadino, lo valuteremo ovviamente su questo, ribadisco, se serve per aiutare un comparto economico particolarmente colpito come quello turistico, se fatto bene può essere utile. Motivi in più perché tutti partecipano a una campagna vaccinale. Ritornando insomma appunto alla ripresa, sono anche state stilate varie linee guida, quindi tutti i protocolli di sicurezza, delle varie attività economiche e sociali, approvate poi dalla conferenza delle regioni, inviate ora al governo. Ritornando che cosa si aspetta da questa ripartenza, quali sono i punti sui quali bisognerebbe insomma lavorare di più, proprio per permettere ancora più aziende di poter finalmente respirare in questa ripresa? Noi come conferenza delle regioni ci siamo un po' mossi in modo molto responsabile, con la consapevolezza di fare un passo per volta senza rischiare di proporre cose un po' stravaganti che dopo rischiano di farci fare dei passi indietro, però penso che i passi avanti sia necessario farli seriamente e questo cosa vuol dire tenere anche equità nel paese quando si decide di aprire uno o l'altra cosa. Badalmente quello che abbiamo sottolineato nell'ultimo decreto approvato dal governo è che ci sono delle criticità che noi vorremmo contribuire a risolvere, ad esempio l'apertura degli spettacoli al chiuso e all'aperto non combacia con la data di apertura per esempio di chi può assistere a un evento sportivo. Non capiamo perché uno possa andare a vedere in un luogo uno spettacolo e con le stesse regole non possa andare a vedere una partita di rugby. Diventa ovviamente difficilmente sostenibile di fronte a un periodo che già il paese sta vivendo con grande difficoltà, ma se dopo uno vede un'ingiustizia, una differenziazione così marcata rischia di aggravare anche la situazione nel paese e di non aiutare più la tenuta sociale che oggi è fondamentale. Dall'altra abbiamo anche chiesto di anticipare alcune date, per esempio abbiamo mandato una lettera al governo come conferenza chiedendo di anticipare per esempio l'apertura dei parchi tematici delle terme a giugno, non a luglio perché in quel caso ovviamente vorrebbe dire compromettere definitivamente la stagione estiva e per questa attività è estremamente importante. Abbiamo proposto le linee guida anche per la ristorazione al chiuso, per esempio con delle regole molto stringenti, ma anche in questo caso penso possa essere fatto un passavanti. Abbiamo chiesto di valutare per quanto riguarda per esempio palestre e piscine, iniziare da subito la possibilità di svolgere le lezioni individuali per poi andare ad aprire definitivamente sempre con regole molto chiari e molto dure che abbiamo fatto come conferenza, però aprire completamente l'attività. Ecco, penso che in questo momento noi dobbiamo andare verso quelle regole che si seppur stringenti permettono di ripartire. I divieti assoluti ho paura che oggi funzionino molto poco perché la risposta che c'è nella popolazione al divieto assoluto dopo più di un anno di fatica, stress, difficoltà e in alcuni casi disperazione di imprese e lavoratori, la reazione ai divieti assoluti è quella di capire come eluderli, non come aderire a una difesa collettiva. Quindi le istituzioni devono capire che dobbiamo iniziare a trovare strategie diverse in questo momento per essere non soltanto utili alla ripartenza ma anche efficaci alla lotta al virus perché questa lotta la si vince se la comunità si muove insieme alle istituzioni, non se un'istituzione ordina il cittadino esegue perché dopo un po' il cittadino si stufa di subire soltanto gli ordini e non sentirsi protagonista diciamo di questa battaglia collettiva che stiamo facendo e quindi la sollecitazione che noi abbiamo fatto come conferenza al governo va proprio in tal senso, un senso costruttivo, penso una collaborazione importante ma la collaborazione sta anche nel sollevare le criticità e proporre soluzioni, non soltanto dire che le cose non vanno bene ma anche dire cosa bisognerebbe fare per migliorarle. Certamente, Presidente chiudiamo con delle informazioni proprio riguardanti il Friuli Venezia Giulia, parliamo di lavoro, continuano anche nuovi corsi di lavoro FWG per gli occupati, disoccupati, gli inattivi proprio per acquisire nuove competenze, essere riposizionati sul mercato e più competitivi, quindi Regione FWG da questo punto di vista sta mettendo a disposizione della popolazione queste potenzialità, questi nuovi corsi e c'è anche recente la notizia della proroga a fine 2021 per le garanzie tassi agevolati, concessi appunto dalla Regione in questo periodo anche di coronavirus alle piccole e medie imprese fino a dicembre 2021. Sì, noi abbiamo cercato di mettere in campo una serie di misure che sono penso anche consistenti dal punto di vista economico proprio per andare incontro alle difficoltà delle imprese e di molti lavoratori che magari hanno perso il lavoro, su questo partendo dai ristori di cui abbiamo parlato molte volte ma delle misure che le ha citato ce ne sono oltretutto molte altre che vanno nella direzione dell'occupazione, della rioccupazione e dell'aiuto alle imprese. Non solo, abbiamo anche messo in campo misure di carattere fiscale per incentivare gli investimenti in Fulenza Giulia, noi vorremmo ripartire il più velocemente possibile e all'interno delle competenze che ovviamente non sono totali ma limitate che alla Regione, però cerchiamo di fare del nostro meglio per favorire una ripartenza e una ripresa dopo un anno estremamente difficile. La Regione Fulenza Giulia, anche i dati ce l'hanno confermato, che nel 2020 è stata la Regione che ha tenuto meglio a livello nazionale, la migliora in assoluto a livello nazionale per esempio per quanto riguarda la tenuta dell'occupazione, abbiamo vissuto comunque un momento difficile, non c'è dubbio, però fortunatamente rispetto ad altri territori abbiamo tenuto molto molto di più. Questo penso sia dovuto alla grande capacità delle nostre imprese, alla capacità dei nostri lavori, ma penso in parte anche alle scelte che abbiamo fatto come amministrazione regionale per cercare di fare una rete di salvaguardia la più ampia possibile e anche la più consistente possibile dal punto di vista economico per cercare di salvaguardare il nostro tessuto produttivo che si traduce in lavoro, che si traduce in famiglie, perché ovviamente chi lavora fa parte di famiglie e mantiene quelle famiglie con quel lavoro e quindi l'abbiamo ritenuto estremamente importante per cercare di trovare delle soluzioni al momento di difficoltà che sta vivendo il Paese. Scusi, mi veniva da posto. Si figuri, si figuri. Si può soffocare. Era un discorso lungo, grazie Presidente. Grazie. Allora, penso insomma che abbiamo più o meno toccato tutti i punti, ma naturalmente ci risentiremo e ci aggiorneremo proprio per seguire mano a mano la situazione, soprattutto in questa fase di ripresa, non ci resta che augurarle buon fine settimana, un buon fine settimana giallo. Grazie mille a voi e buon lavoro. Buon lavoro Presidente. Avete ascoltato Punto Regione. Gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia con il Governo.